Un saluto a tutti e un ben ritrovati con la rubrica Il Medico delle Piante. Anche oggi, come solito, cominciamo dalle pomacee e cominciamo con l'insetto chiave per la difesa di melo e pero, cioè mi riferisco alla carpocapsa. Come avete sentito da Cleglia, il modello previsionale prevede, nella maggior parte delle steffioni, l'inifeo della nascita delle larve di prima generazione di carpocapsa per il fine settimana. È fondamentale contenere bene la prima generazione di carpocapsa per poi avere meno problemi sulle generazioni estive di questo insetto. Il mio collega vi ha già detto i prodotti che riteniamo più opportuni per cominciare la difesa contro questa prima generazione e mi riferisco in particolare al Coragen. Il messaggio è quello di valutare sì le informazioni del modello, il quale però magari non tiene conto di certe situazioni particolari che ci possono essere in alcune avvende. Avvende che magari hanno superato la soglia di catture, che vi ricordo, di due adulti per settimana per trappola, già a metà del mese di aprile, dal 14 al 20 di aprile. Oppure avvende che hanno avuto grossi problemi nelle annate passate o che hanno catturato molti adulti. Ecco, in queste avvende probabilmente il posizionamento del Coragen più corretto è dall'inizio di questa settimana, mentre in tutte le altre avvende, anche nelle avvende dove si è fatto il posizionamento della confusione sessuale o dove vi è una situazione normale con qualche cattura, è corretto posizionare il Coragen verso la fine settimana o l'inizio della prossima. L'altro prodotto con cui eventualmente consigliamo di cominciare la difesa di questa prima generazione è il virus della granulosi. Questo essendo un prodotto prevalentemente l'arvicida, va invece posizionato eventualmente qualche giorno dopo e quindi all'inizio della prossima settimana. Ora parlerei di qualche altro insetto delle pomacee, mi riferisco in particolare all'afide grigio. Per adesso la situazione è buona, però siamo ancora in una fase abbastanza rischiosa in caso di reinfestazioni di afide grigio, per cui chi non è ancora intervenuto nel post fioritura deve fare attenzione, campionare bene il proprio meleto e in caso di reinfestazioni può reintervenire con imidacloprid, quindi confidor, che però il disciplinario ci limita a un intervento durante l'annata, oppure con tepechi di cui possiamo effettuare due interventi durante l'anno. Altro insetto del quale è in corso la ovodeposizione è la psilla del pero. L'unico prodotto chimico ammesso contro questa avversità è l'abamectina, il vertimec, che va posizionato normalmente quando cominciano la chiusura delle uova e la nascita delle neanidi. Fase questa che per questa settimana sicuramente nella stragrande maggioranza dei casi non si verificherà ancora, quindi l'unica cosa che possiamo fare è monitorare la deposizione e monitorare anche la presenza eventuale del competitore della psilla, cioè l'antocoride, perché spesso buone presenze anche di antocoride possono portare anche alla non necessità di intervenire chimicamente contro questo fitofago. Ritornerei ora alle pomacee per parlare delle malattie fungine e in particolare, come solito, della ticchiolatura del melo. La situazione mediamente è molto buona, sono veramente poche le avviende che denotano qualche macchia sulle foglie di ticchiolatura e quindi direi che nella maggioranza dei casi la difesa va fatta solamente preventivamente a piogge previste, ecco, con i prodotti di copertura come i soliti ditiocarbammati, quindi mancov o metiram, il captano, il fluarvinam, cioè l'oaio oppure il ditianon. Se cala la pericolosità per quanto riguarda la ticchiolatura, invece sul pero nelle prossime settimane, aumenterà sicuramente il rischio di maculatura bruna. Per adesso però, come avete sentito da Clelia, il modello previsionale ci dà ancora un rischio molto basso e quindi ritengo che per questa settimana sia sufficiente per contrastare questa malattia l'impiego del solito TIRAM, cioè il TMTD. Per rimanere sui fitofagi passiamo a parlare delle drupacee, vi è l'acidia del pesco, in corso la nascita delle larve di prima generazione, già un intervento nelle avviende che hanno superato la soglia che per la prima generazione è di 30 adulti per trappola, già un intervento dovrebbe essere stato effettuato, se da un campionamento notiamo anche, nonostante questo, qualche getto cidiato, possiamo anche reintervenire con prodigi, intrepid oppure corragen. sempre sulle drupacee, un altro insetto è l'acidia funebrana, in questi giorni dovrebbe cominciare la nascita delle larve di prima generazione e in caso che abbiamo superato la soglia che è di 10 catture per trappola potremmo intervenire sempre con corragen oppure fosmet, quindi spada o imidan. Altre malattie fungine di interesse sono sulle drupacee, in particolare parliamo dell'oidio, del mal bianco, ecco è molto importante, su albicocco e pesco continuare a effettuare trattamenti cadenfrati ogni 10-12 giorni con volfo. Con questo il mio intervento è terminato, con la rubrica il medico delle piante, arrivederci alla prossima puntata.